Le video notizie di distribuzione moderna. Una fase difficile per tutti, lo è in modo particolare per le famiglie italiane, dibattute tra le preoccupazioni per la salute, per l'emergenza, ma anche l'inizio delle preoccupazioni per una situazione economica che più perdura la crisi e più rischia davvero di diventare terribilmente difficile. E Coop ha deciso, tutte le cooperative italiane hanno deciso di dare il proprio contributo di rassicurazione fin dove questo è possibile. Quindi insieme già da adesso le cooperative hanno deciso di tenere fermi tutti i prezzi di vendita per i mesi di aprile e maggio dei prodotti confezionati industriali. Si tratta di 18.000 referenze per le strutture più grandi, ma qualunque supermercato ha i 6.000, i 10.000 articoli che avranno i prezzi fermi garantiti per questi due mesi. Ma non ci fermiamo qui, perché l'economia del nostro paese è altrettanto importante, è un pezzo vitale della rassicurazione delle famiglie, e il tessuto produttivo italiano ha bisogno di essere protetto, aiutato. E noi vogliamo fare la nostra parte. Quindi per i coltivatori, per gli allevatori, vorremmo assicurare che qualunque rischio di speculazione cercheremo di contrastarlo. Vorremmo garantire dei prezzi che in questa fase di crisi sono gli stessi della fase precedente. Staremo vigili, attenti e COOP cercherà di dare il proprio contributo.